Calcio mercato, giusto giusto, volevo dare un assist a Michele Borrelli che riprende quanto mi stava dicendo Fra, posso dirlo? Il post di Briatore su... È pubblico. Vada. Io? Sì. No, nel senso che è uscita un'intervista dove parla di Spalletti in senso negativo, parlando di un allenatore che ha usato arroganza anche con i giornalisti, che lui preferirebbe Allegri per il modo che ha di gestire le cose, anche se Allegri ovviamente nell'ultimo momento di carriera d'allenatore lo ricordiamo in una serata un po' particolare, però diciamo che... Ho la cravatta anche oggi. La Toscana quest'anno ha fatto parlare molto dal punto di vista di CT e di allenatori in questo senso, però insomma sono sanguigni, io queste cose qua da un certo punto di vista posso dire che ok, il rispetto ci deve essere sempre e non deve mai mancare, però è anche bello vedere che quell'allenatore diventi sanguigno, diventi vero e a volte non controlli neanche le emozioni, perché comunque sono esseri mani... Perché talmente ci tiene, talmente lo sente... Ma no, perché la gente da casa cosa pensa? Vabbè ma tu prendi 10 milioni, ne prendi 5 e devi saper gestire queste cose, non è sempre così. Non è sempre così. Non è sempre così. C'è gente che prende 50 milioni l'anno e non gestisce robe in questo modo. E per completezza, Michele? No, perché oggi i bookmakers quotavano Allegri CT della Nazionale. Ma lasciate lo stare. E c'è chi come la SNAI addirittura la dà 5. Allora però l'unico scenario possibile è un cambio di presidenza federale proprio nelle prossime... 4 novembre? Vogliamo dire una data? Perché dai, allora Gravina lo ha già confermato, quindi dovrebbe succedere un terremoto all'interno della federazione, in quel momento un nuovo presidente federale può fare altre scelte. Ma doveva succedere? Per me è quello che è grave. Cioè doveva succedere questo? Però sei d'accordo? Ma cambia anche la guida tecnica? Ma tutto! Quando Gravina dice adesso è vero si poteva dimettere... Però se si dimetteva era il primo luglio, oggi. Invece non si dimette il primo novembre, il 4 novembre, sono luglio, agosto, settembre, ottobre, tra quattro mesi, se Lega di A, Lega di B, Lega di C, Lega di D, gli arbitri, gli allenatori, tutte le componenti federali, non lo sostengono, non viene votato, non è più lui. Certo, ma lui, ti ripeto, ieri dall'intervista si capiva chiaramente che non voleva ricandidarsi. Come battuta, Max Bramba... Cioè ha fatto passare il non mi dimetto, ma non mi ricandido. Un po' di stanchezza, facili che vuoi. Ci sono state diverse interperazioni. Come battuta dicevo, e poi parto da ovviamente Padre Bargigia, Massimo Brambati, come battuta, tanti hanno detto, beh, caspita, vedere il gioco, no? E quello che ha fatto Spalletti, forse, forse uno come Allegri avrebbe potuto dire la sua. Come battuta. Perché fai le battute, Vittoria? Perché fai le battute? Come provocazione. Io continuo a sostenere, no, io continuo a sostenere che secondo me, poi, catapultarsi nel ruolo di selezionatore è completamente diverso da quello che è l'allenatore di club, ma io l'ho chiesto anche a chi l'ha fatto. È logico che l'allenatore di club ha a disposizione innanzitutto un club che eventualmente acquista o mette mano al mercato e ha delle lacune che può avere tecnicamente una squadra. Cosa che l'allenatore di nazionale ha quelli di giocatori. Non è che se li può andare a inventare. Quelli sono e quelli per il momento rimangono. E oltretutto hai a disposizione i giocatori che se già non sono dei fenomeni e quindi devi applicare un metodo, quel metodo ha bisogno sicuramente di tempo e ha bisogno sicuramente di tanti ritrovi. E non è come il club che ti trovi tutti i giorni e affronti domenicalmente le partite e quotidianamente l'allenamento. Domanda di Lavia, poi intervento di Borrelli. Domanda a te Massimo. Vado un po' fuori tema, però mi ricollego quello che hai detto adesso. Ma Antonio Conte, come aveva approcciato quell'europeo lì? Perché loro andavano a 100 all'ora, quell'europeo lì, quando l'allenato nazionale. Ma allora, intanto Antonio aveva, secondo me, una struttura fatta di qualcuno che era un campione. Credo, non so, penso ci fosse ancora Buffon, se non sbaglio, in quell'europeo. Quindi c'era un po' uno zoccolo duro su cui lui si è appoggiato e ha avuto molto più tempo. Tant'è vero che credo che nelle qualificazioni di quella nazionale ci furono un paio di partite dove onestamente non convinse nessuno nella prestazione. E poi è logico che aveva creato un gruppo importante dettato da un qualcosa che riesce a fare, secondo me, anche con giocatori di grandissima personalità. Poi è logico. Io mi ricordo Massimo. Ragazzi, scusatemi, però, ritorniamo un attimo sulla Juventus. Solo perché dalla nostra regia, la nostra redazione, che non si ferma mai, arriva, sopraggiunge una notizia di adesso su Calafiori, alla Juventus? No, Michele. Sì, perché... Ultimora proprio, e adesso è uscito. Poi dico anche una roba dopo, Michele. Oggi è una giornata di dichiarazioni, perché comunque è il primo giorno di calcio mercato. Certo, il primo giorno ufficiale di calcio mercato. A Rimini c'è tutta la cerimonia ufficiale, quindi tanti addetti ai lavori stanno parlando, ha parlato Marotta, adesso Sartori. Sartori che dice, io penso che non finirà la Juventus. Penso. Penso che non finirà. Probabilmente andrà all'estero nel caso in cui noi lo venderemo, nel caso in cui decidessimo di venderlo. Posso entrare a piedi uniti. Certo. Sì, a noi piacerebbe tenere Calafiori, perciò vediamo cosa succede. Allora, qui Sartori praticamente fa capire che loro, al di là delle dichiarazioni, che l'offerta della Juve è bassa, Calafiori non riusciranno a tenerlo, perché ha tantissime offerte. Loro sperano di venderlo all'estero, perché sperano di guadagnare più soldi. E quindi così fai alzare l'antenne alla Juve, che piacerebbe spendere di più. Anche perché, anche perché non dimentichiamo... E così i talenti italiani vanno fuori dall'Italia! Aspetta, anche perché non dimentichiamo che il 40% dell'importo di Calafiori va al Basileo. Quindi è ovvio che il Bologna ha interesse a scatenare un'asta, alla quale la Juve in questo momento sicuramente non parteva. Però ci sono una notizia. Vai, che notizia, però? Che è una cosa che abbiamo già detto due settimane fa. La mamma di Calafiori riferisce che lui vuole solo la Juve. Ma è ancora valida questa cosa? È bene, la mamma di Calafiori non è che ha cambiato dire. No, ma vabbè, ma è anche logico... No, dico, questa dichiarazione di quanto tempo fa era? Questa settimana fa. Non è una dichiarazione, ha parlato al telefono con una persona. Ah, la voluntas. Vittoria, ma è anche logico, perché l'allenatore che l'ha fatto diventare Calafiori è Tiago Morto, perché è andato alla Juve. Ovviamente, poi vai alla Juve... Ma poi questa è la differenza tra gli italiani e gli stranieri. Cioè, l'italiano, vi ricordate quando Chiesa aveva la Juve? C'era l'offerta del Bayern Monaco. Chiesa dice, io mi sento di voler stare in Serie A. Quindi lui vuole rimanere in Serie A, vuole andare di più a Juve, Milan e Inter. Oggi per Calafiori tra Juve, Milan e Inter c'è la Juventus, quindi secondo me si può capire, è un giocatore, tra andare a mettersi tra l'altro, per esempio, faccio un esempio, a meno che non ti riempiano di soldi in fine, il Manchester United. Uno va in un nuovo campionato, tu sei ancora giovane, magari hai bisogno di fare un altro semplice. Non fai titolare, fai la Champions. Poi al Manchester United ti dice... Ma poi vuoi in Bologna che fa la Champions per andare alla United che non la fa. Non fai la Champions, vai in un club dove c'è stata confusione. negli ultimi anni, quindi secondo me si può capire. Però dall'altra parte si può capire anche il dirigente della società che deve fare cassa, che dice io o faccio cassa adesso, ho un contratto lungo, devo dare il 40% al Basilea, quindi è una situazione diciamo... Altrimenti sfuma. È una situazione intricata. Dato che è giunto in questo momento mi sta abbastanza stupendo, perché nell'ultimo mese ha fatto due colpi in uscita che solo il signore su... Ken! 18 da Fiorentina! Ma non poteva stupirti quando non poteva lavorare. Aspetta, a 3, a 3, a 3, a 5. Ma l'anno scorso poteva lavorare in qualche modo a gennaio, soprattutto sul centrocampo. Però andiamo su questo. Lui che ha fatto queste due uscitte, Caio Giorgio e... Ken. Ken. No, e poi in quel modo lì. In Inge Barrenecea, a 4. Esatto. In questo momento mi fa capire che probabilmente il corpo di... Scusami, Mogi è entrato nel corpo di Giuntoli e non ne esce più. E quindi probabilmente farà robe... Bene per te. No, perché Calafiori so che è una roba... E Paolo mi può dare la conferma di questo. Io so che Calafiori fa parte di quei tre giocatori insieme a Cobb Miner e a Douglas Luiz che la Juventus voleva prendere per forza. Ecco, vediamo allora la grafica, così me la faccio commentare ovviamente da Paolo se hai delle notizie da arricchire e poi Massimo Brambati. 4-2-3-1 di questi nomi in giallo. Manca uno a destra, ragazzi. 4-2-3-1 è il modulo. Chi manca a destra? Ragazzi, Benillo non è un terzino. No, 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 no. Ti confermo, Francesco, che giocherà a destra. Poi ti dico anche perché. No, no, ma a destra davanti dico, eh. No, no, lo so. Davanti. C'è un nome molto caldo a due settimane. Borussia Dortmund. Beh, allora, nel 4-2 Thuram è in arrivo. Ah, scusami, Manchester. Lo diciamo da tempo. Con Mainers verrà trattato quando sarà reputato opportuno. Thuram fratello. Per il momento l'Atalanta. Sto fratello. Di Gregorio in porta. Bene. No, poi... Mancano tanti esterni, secondo me. Chiesa, Chiesa, secondo me... Ah, ma se parte Chiesa. Certo. Se parte Chiesa, arriva un esterno. Non so se Greenwood o Sancho. Più Sancho. Più Sancho? Il Greenwood in questo momento... Sì, ma anche lì bisogna vedere se li danno in prestito questi giocatori qua. Sancho, Greenwood, si è parlato anche di... 30 milioni, il cartellino di Sancho, eh. Non è che c'è la città. Arrivabile, non è... No, ma loro stanno... Vedi Chiesa 40? Loro stanno provando il prestito. La richiesta della Juve non è sotto i 40 per vendere Chiesa. Hai altri nomi rispetto a questi gialli? No, è sotto i 40. Sotto i 40 non lo ha sotto i 6. Confermiamo questi, quindi. Ad oggi sono questi. C'è da seguire. Certo. Eventualmente la vicenda di Lorenzo, ma eventualmente, però oggi... Però Danilo, ragazzi, non è un terzino del resto. Ecco, Francesco, non tu lo facessi uno come di Lorenzo. In rosa, anche alla luce di tutto quello che è successo, le differazioni al Napoli, come si è comportato in nazionale. Ma no, vabbè, ma lui in questo momento qua sta passando un periodo particolare come tanti giocatori nazionali, quindi non è solo di Lorenzo. Lorenzo ha fatto un disastro, ma tanti altri hanno fatto uguale. Eh, per me lo dicevo. Io, per il bene del campionato di Antonio Conte e del Napoli, preferirei che rimanesse là in Semacvara, perché poteva essere un campionato molto interessante con una squadra al completo l'anno prossimo senza coppe. Competitiva, assolutamente. E probabilmente mi darebbe ragione su quello che dico da un anno, cioè che Conte è uno di quelli su cui stare più attenti in assoluto e la Juve non doveva mandarlo là. Però, dato che poteva prenderlo, però di Lorenzo la Juve servirebbe come il pane. Rugani è inutile che giriamo attorno al problema. De Sciglia è in uscita, Rugani pare essere in uscita, a sinistra è cambiaso, Alessandro ha smesso, cioè tu di terzini hai bisogno di... Rugani dove? No, dove. Nella lista varia, tra i vari nomi non graditi, ci sarebbe anche Rugani, che per me invece poteva benissimo starci. Soprattutto vedendo l'upgrade che ha fatto gli ultimi anni. Con Cambiaso ti mancano veri, tre terzini, due di destra e uno di sinistra, perché Danilo non è un terzino destro. Ecco, ma devo sentire Brambati, mancano i veri terzini, Brambati. Fidati, fidati. Sta facendo la Coppa America, gioca da... Ma non è più. Ma è il suo ruolo naturale. Fatemi sentire Massimo, ragazzi. Quando l'è stato? Allora, lo siti? Vai. No, io di questa, diciamo, specchietto che avete fatto, che avete messo lì, io chi venderei, ma questa è la mia sensazione, non lo conosco, poi probabilmente può piacere anche a Tiago Motta, io non lo so. Però secondo me è un giocatore, sì, sulle... Io se ho una squadra che ha tanti soldi e siccome è a mercato, io me lo venderei. Bene. Ce l'ha, ce l'ha, Max. Ce l'ha. E poi quei soldi li impiegherei naturalmente, poi eventualmente per anche arrivare a Calafiori. Ecco, Calafiori è un giocatore che se avevo ancora, non dico qualche dubbio, ma ho visto un giocatore fatto e finito, secondo me è pronto per la Juventus. Sì. Ecco, allora concludo con Paolo che poi dobbiamo affermarci. Su Lecce è una cosa importante però, che Tiago Motta avrebbe provato a sentire di poterlo valutare nel pre-ritiro per poi capire, perché ha più mercato di quello che ci aspettasse, soprattutto la Premier, e addirittura è quotato di più di Huizen, che probabilmente verrà ceduto anche lui, come ha detto bene prima Paolo. Quindi a quel punto fai spazio per chi dicevamo prima. No, 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 non è che tra chiese e su Lecce preferisce su Lecce. Chiesa ha un ruolo che determinati movimenti, per come Tiago Motta vede il calcio, non va troppo d'accordo. Infatti anche con Ursulino non è che diciamo sì. C'è l'aspetto tattico e c'è l'aspetto anche contrattuale. Gli avevamo proposto di rinnovare a certi cifri. Però su Lecce, quel giocatore di far arrivare liquidità per comprare altri. Gli ha proposto un rinnovo ponte, ha detto di no, e allora praticamente è stato detto al suo agente di cercargli una squadra. Concludo con te Paolo. Abbiamo altri nomi da fare in chiave Juventus, tra cui i tuoi appunti freschi di giornata? No, 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 ma è tutto abbastanza chiaro. Insomma si stanno incastrando dei tasselli. I prossimi saranno nei prossimi dieci giorni. In settimana arriverà Turam e dentro il 10 luglio probabilmente anche prima arriverà Di Gregorio. Quindi sono tutte cose che combaciano. Senza fare voli pindarici, secondo me, le linee della Juve sono tracciate. Poi dovremo capire quando daranno l'assalto con Mainers. Le uscite, gli occhi bisogna tenerli. Soprattutto chiesa. Soprattutto chiesa. Eisen, Eisen, che ci sono tre squadre che lo stanno trattando Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Dortmund anche. No, è una della Premier, c'è un'amnesia, e su Le. Ecco, bisognerà guardare queste cessioni e da lì poi capiremo se potranno dare l'assalto a Carafiori, sicuramente arriveranno i soldi per arrivare con Mainers. Vabbè, poi dicevo Danilo che in questo momento è una cosa molto lontana. Allora, possiamo chiudere per aprire la parentesi della tua Inter anche perché dichiarazioni di oggi. Stanno parlando Marotta, Auxilio, sempre da Rimini stanno arrivando. Eccoci ragazzi, siamo tornati insieme, si stava parlando di Inter, di ultime ore, perché oggi stanno parlando in tanti, in chiave mercato, primo giorno ufficiale di quello che è il calcio mercato estivo e quindi Michele Borrelli, riparto da te. Sì, hanno appena parlato come dicevamo prima sia il presidente, mi devo ancora abituare, che è un presidente Marotta e il direttore sportivo Auxilio e hanno praticamente confermato che oggi comincia il calcio mercato ma per l'Ittere è quasi già finito. È quasi già finito presi nel senso a parametro zero da febbraio quindi alla fine li potevano già prendere perché erano a parametro zero non avevano rinnovato. Quindi con Martinez che deve fare le visite nei prossimi giorni Zelischi e Taremi tra l'altro ieri Zelischi ha fatto un bel video cioè il Napoli gli ha fatto un bellissimo video otto anni al Napoli era un legame veramente molto profondo con la città di Napoli quindi Zelischi Taremi no perché questi giustamente tu dici sono stati fatti tanto tempo fa e non sembra quasi esatto scusa non ho specificato L'Inter abbia già fatto tre acquisti in questo di mercato quindi alla fine che cosa resta da fare? Intanto da rifinire la rosa e lo stesso Ausilio dice oggi i numeri dicono che la scuola è a posto così c'è anche qualche subero per il ritorno dei prestiti se pensiamo all'attacco l'Inter oggi ha Correa lo stesso Arnautovic Valentin Carboni Satriano Ristanio certo qualcuno è già quasi piazzato qualcun altro andrà via in prestito corre e compra qualcun altro verrà valutato il ritiro da Inzaghi ma diciamo è lì che può succedere ancora qualcosa poi Paolo ci confermerà ma se Correa va via e va via se Arnautovic che ad oggi non è per niente lui convinto e l'Inter nemmeno lo sta spingendo almeno diciamo ufficialmente va via Carboni può andare in prestito se si aprono tutte queste caselle c'è la possibilità di prendere un altro giocatore alternativo a Turam un po' più pronto un po' più simile a Turam rispetto a Arnautovic e Carboni che sarebbe però attenzione perché su Gudmundson c'è anche la Lazio beh ma non c'è partita non c'è partita onestamente e ancora una volta Paolo Bargigia ci smentisce il titolo ma no io non l'ho visto il titolo quindi chiedo Venga Inter attenta anche la Lazio vuole a Gudmundson ma io adesso lo dico per ridere ma che la Lazio voglia a Gudmundson è una cosa che poi il giocatore sapendo che c'è vinta sullo spondo ma sì ma ragazzi ovvio tra l'altro diciamo una cosa sulla Lazio che comunque sta facendo il suo mercato ieri e oggi ne ha presi tre dignitoso perché ieri ha preso dal Verona Noslin no che è un bel signor giocatore a Verona giocava con Baroni 15 milioni l'operazione contratto di 5 anni a 1 e mezzo poi in settimana chiude per il centrocampista offensivo inglese Dele Bashiru che gioca in Turchia nella Thai Sport e praticamente oggi hanno ufficializzato l'arrivo di Ciaunà dalla Salernitana 8 milioni il costo della clausola recessoria che lui aveva in caso di retrocessione in Serie B poi la Lazio cerca esterni perché in verità hanno fatto un'offerta anche lo United per Mason Greenwood però è chiaro che se tipo ci va la Juve su Greenwood la Lazio viene scavalcata ma signor Lavia dicevi attenzione alla Lazio quest'anno perché secondo me Baroni potrebbe tornare a essere competitiva anche in Ciave Champions sono acquisti alla lotito cioè non tanta spesa ingaggi non tanto alti cioè non è il passo più lungo della gamba però stanno un po' rifacendo la squadra ecco oggi hanno preso anche un giovane di 19 anni dal Barcellona B che aveva giocato nella Serie C per dire che si stanno muovendo ma per esempio con Tudor lo scontro era stato sul fatto che Tudor ne voleva cambiare tanti anche appena presi con contratti forti mentre lo dito dice l'allenatore della Lazio deve sposare la nostra però ragazzi scusate mi manca giusto un minuto alla fine della nostra trasmissione vorrei un commento di Massimo Brambati sul titolo che la nostra regia appuntamente ha cambiato Inter ausilia annuncia fatta per il rinnovo di Inzaghi lo sapevamo però effettivamente no mancava l'ufficialità certo hanno fatto bene è un allenatore che ha meritato e quindi era giusto anche premiarlo con un rinnovo e credo che sia l'esito giusto di una stagione straordinaria che ha avuto l'Inter grazie a tutti